Oggi mi sento potente, mi sento quasi come un bugile e infatti ragazzi oggi andremo ad usare una classe che ho rinominato pugile in cui come vedete no nessuna cazzo di arma, neanche una. Ovviamente ho messo 6 specialità perché cazzo, quindi oggi il nostro personaggio farà il pugile, uccideremo con la forza delle mani, davveri uomini, oppure moriremo tipo 20 volte di fila. Corri forest corri, paura di questa partita, penso che alla fine il mio rateo sarà tipo in negativo assurdo. Ok, ma le fucker, sono pugile, ma non c'è nessuno qua, io sono pugile, vieni qua che sono pugile, sono pugile, è morta con un destro, sono pugile, no non sono più pugile, ho i pugni nelle mani, sono pugile, no non sono pugile. Eppata! Un destro omicidiale. Dove vai? Sono pugile, dammi l'apprevisionamento. Pugilessa, pronta l'azione, no! Pugile! Io ti spiezo in due! Oh ma state zitti per favore, basta! Mamma mia che casino che fanno! Ho girato! Che io! Madafacca! Oddio no, scusa! Cazzo! No! Mi spiezo tutti quanti! Nemico! Vedo i passi! I tuoi passi vedo! Stronzo! Dove vai? Aspettami! Aspetta! Aspetta che cazzo! E vai! E dagli! Chi c'è lì? Chi c'è qui? Ma tu lo sapevi che io sono pugilato? I passi! I passi! Vieni qua! No! No! Oh fermo! Vieni qua pezzo di merda! Sono pugilato! Pugilato! E fa anche la killcam col pugilato! And his name is John Cena! Oh Dio! Pugile! No! Ma vaffanculo camperone di merda! Devi morire male! Dov'è che eri scusa? Andiamo a vedere un attimo! Che pezzo di merda! Pugilesso! Aiuto! Aiuto! Non potete sparare a uno disarmato! Sono stronzi! Ehi! Io sono pugilato! Lo sapevi? Dai giù! Coglione! Pluffete! Oh no no no! Torna indietro! Torna indietro! Torna indietro!